E dici fantastico, finalmente c'è l'apparizione della Madonna, è venuto fuori da un cilindro, D'Alema l'ha tolto dal cilindro, eccolo qua, il nuovo salvatore del paese, infatti è una persona fantastica, devo dire che sono molto impressionato, forse perché non ho mai visto prima la sua faccia, non ha inflazionato questi talk show e quindi è anche bello vedere una faccia di qualcuno fresco che dice delle cose fantastiche, Cuperlo faccio i miei complimenti, però io non credo che poi lei un giorno quando sarà segretario del partito potrà essere così, ho visto Bersani sciogliersi nel partito, tutti si sciolgono in questo partito, ho visto Veltroni parlare in modo fantastico e si è sciolto nel partito, ma cosa avete l'acido solforico in quel partito, io cambierei ancora il nome, invece di PD AC, acido solforico, perché vi sciogliete all'interno del sistema partitico invece di fare e dire quello che dovreste dire e fare per il paese, chiaro?